The new noise, anzi new noise, sono io refused, direttamente dalla colonna sonora di The Bear, anzi stagione 3, una dei momenti più alti dell'ansia che ti trasmette la terza stagione di The Bear, ma facciamo un capello introduttivo perché che cos'è The Bear? È una serie televisiva statunitense ambientata a Chicago, creata da Christopher Storer e racconta la creazione e la nascita di un progetto di ristorazione. Come, ecco, Arianna di Boris nel film mollava il cinema per l'unica cosa seria che c'è in Italia, cioè la ristorazione. Bene, si va dall'altra parte dell'oceano e si racconta esattamente luce e ombre, mettiamola così, della ristorazione. Immagino che Flavia sia su TripAdvisor per vedere... No, sto facendo un posto da sei ore e un quarto, però ti ascolto, fidati, adesso vado. No, no, la terza stagione si colloca, sì, ovviamente, dopo la seconda e ancora successivamente alla prima, ma la serie di per sé è una serie estremamente peculiare, ha fatto un grande botto, tra virgolette, comunque il suo impatto è stato veramente molto sentito da ogni persona l'abbia vista. La prima sicuramente ha impressionato moltissimo, alcuni sono rimasti proprio fuori, vista la prima puntata. La seconda, no, non è la mia tazza di tè. Ma diciamo che ci sono delle considerazioni da fare. È vero che cavalca un argomento che è quello del cibo e della cucina, che diciamo è un grande must dell'intrattenimento degli ultimi vent'anni, 15 anni mi verrebbe da dire. Beh, da Anthony Bourdain in poi è esplosa proprio. Esatto, quindi diciamo l'argomento è questo. È vero che ha avuto un po' di stanca come argomento, però è comunque un tema che funziona. Però in realtà lo fa in una maniera che sembrerebbe assolutamente semplice, cioè non ci sono trame particolari, grandi. Qualche colpo di scena c'è, però sono sempre colpi di scena nell'ambito della credibilità, della storia quasi quotidiana, no? Una quotidianità, sì, diciamo avvincente, ma comunque una quotidianità, che è quella di una cucina. Se iniziate ovviamente alla prima stagione c'è un innesco, c'è un dramma familiare, c'è qualcosa che fa partire questa nuova cucina, questo ristorante, che è in realtà un ristorante eleditato. A conduzione è familiare. A conduzione è decisamente familiare, perché poi in realtà il vero protagonista, uno dei peri protagonisti è proprio la famiglia, il proprio rapporto con la famiglia, del protagonista maschile con la propria famiglia, della protagonista femminile con il proprio padre e con se stessa. Qui in realtà poi quello che succede è che in queste tre stagioni vediamo una continua evoluzione della storia, ma soprattutto una continua evoluzione dei personaggi. Vogliamo parlare di psicologia dei personaggi, come abbiamo fatto prima con Alessio De Sante e Flavio Nuzzitelli, loro dicevano che è quella la cosa importante, sulla quale bisogna giocare quando si fa un adattamento e quando si lavora con un'immagine. Ed è effettivamente quello che De Berre fa perfettamente. Arriviamo alla terza stagione, perché tanto non è che possiamo raccontare tutta la storia di De Berre. No, vi possiamo sicuramente caldeggiare le prime due stagioni e anche la terza. Noi abbiamo amato moltissimo tutto, devo dire che questa terza stagione prima di vederla ho letto in giro vari pareri e alcuni sembravano un po' tiepidi. È anche vero che quando si arriva ad una terza stagione mantenere alte il livello e soddisfare le aspettative delle persone, soprattutto quando qualcosa è andato così bene, non è facile e siamo d'accordo su questo. Insomma, non tutto può essere sempre perfetto e sempre al massimo. Però devo dire che quello che c'è stato e che c'è di interessante in questa stagione, anzi in realtà in questa serie, è che gli autori, le autolici, trovano sempre un modo per sorprenderti, un modo per raccontare le cose in una maniera diversa, con un ritmo diverso, con una suspense diversa. Con una profondità maggiore. Con una profondità maggiore. Questa terza serie va in profondo, in profondo sui personaggi, in profondo sulle loro storie. Scopriamo anche delle storie precedenti a quella che era la tempistica, la cronologia della storia in sé. Si affronta soprattutto tantissimo il tema dello stress emotivo e della salute mentale, che sono comunque cose importanti, fondamentali e che sappiamo essere un argomento molto difficile quando si parla di cucine e di grandi ristoranti, di stelle Michelin, ma in generale di tutti i lavori in cui bisogna sempre e comunque essere al massimo, superare gli standard, arrivare oltre, lasciare il segno. Ecco, tutto questo è la grande sfida dei nostri personaggi e anche la loro croce. E anche questo, bisogna inserire questo progetto, questo progetto imprenditoriale, inserito dentro una gestione familiare di questo. Questa profondità, questo andare verso, è registicamente e anche tecnicamente realizzato con anche delle accortezze tecnologiche diverse dalle precedenti due stagioni. Si sta veramente molto attaccati ai volti, alle facce, ai corpi dei protagonisti. Jeremy White e tutti gli altri vengono veramente sformati, diventa quasi il profilo di Jeremy White che adesso è sex symbol ma soprattutto è esploso anche a livello culturale, pubblicitario, ma la sua silhouette con il suo nasone diventa veramente una sorta di caricatura, più che caricatura di logo. Quando c'è in campo lui ci sono alcuni elementi, alcuni ingredienti nella drammaturgia. Quando non c'è lui ma c'è Sidney che è interpretata da Ayo Edibiri, grandissima interprete, ma intorno a lei... Ho detto così, la grandissima... No, 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 è proprio brava, ma comunque lei è spesso l'ago della bilancia, il più che l'ago della bilancia è la bussola. Però anche essere la bussola è faticoso e qua lo vedremo, insomma, abbastanza evidentemente in questa terza stagione. La scelta musicale che abbiamo fatto prima è praticamente lo scoppio, la colonna sonora di una scena di deflagrazione, di grandissima crisi che coinvolge invece la sorella di Carmi, che appunto anche su questo ha una puntata dedicata. Come state sentendo? Non è sicuramente una serie omogenea, non è una serie canonica, non va sull'orizzontale, non si racconta che cosa succede al ristorante quando apre, oppure quello che succede dopo la prima volta, come va la prima serata, non è lineare. Più che altro si va in un'altra direzione, in una terza direzione, raccontando il rapporto tra personaggi. Oggi per esempio escono moltissimo i fratelli Fak, che sono i cucini, i pasticcioni, e si innesca appunto in questo progetto assolutamente di stellare, si punta alla stella Michelin, ma si hanno degli strumenti... Sì, c'è un'ironia quasi grottesca di questi altri personaggi, che un po' rimandano al mondo anche italo-americano, quindi a tutti questi, insomma, di terze generazioni, quarte generazioni, che comunque si portano a un background popolare di un certo tipo. È veramente una grandissima serie. Qui non possiamo non citare la colonna sonora, perché The Bear sempre racconta e utilizza la musica in maniera anche piuttosto spregiudicata. In questa serie vengono utilizzati addirittura due volte i Beastie Boys, ma nella prima e nell'ultima puntata ci sono degli intermezzi, credo, originali di Atticus Ross e Trent Reznor, quindi i Nine Inch Nails, Nine Inch Nails che tra l'altro adesso hanno annunciato che musicheranno il sequel, il terzo film di Tron, quindi anche avere questi personaggi, e anche avere banalmente i Rolling Stones e i Beastie Boys nella colonna sonora, rende anche l'importanza e la potenza contrattuale di questa serie. Ve la consigliamo veramente molto, ma sappiate che poi dovete stare un po' in piedi per bere dell'acqua piano piano, perché il cuoricino farà tun 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 molto molto spesso. Con questo consiglio vi salutiamo anche, perché siamo arrivati alla fine di queste tre ore insieme di letture metropolitane su Radio Elettrica. Trovate come sempre tutto quanto anche sul nostro canale di YouTube e sui nostri social, ovviamente rimanete in ascolto di Radio Elettrica e noi ci risentiamo mercoledì, mi raccomando adesso siamo il mercoledì dalle nove alle dodici, tutte le settimane, in podcast sempre. Quando volete e se ci volete anche vedere, YouTube, letture metropolitane, ci sono delle novità in arrivo. Ciao! McFly's Go Time! No one! In chiusura di trasmissione. Ciao! Ciao! Grazie a tutti!